La gomma siliconica Eman Body 12 è stata concepita da Boroni Chemicals per la lavorazione e produzione proprio per body casting. È una gomma siliconica certificata, studiata apposta per il contatto con la pelle umana. Due parti uguali, una bianca e una rosa, si mescolano per qualche secondo. Questo è ideale per riprodurre qualsiasi parte anatomica, dalla faccia al dorso, alla schiena, alle mani...